Eccoti qua. Ho una sorpresa per te. Ha voluto dire fare le ore piccole e chiedere qualche favore, ma... Ta-da! Veronica, tu non puoi indossarla. Stai dicendo che la scollatura non mi dona? No, no, dico che non puoi andare in giro con un bersaglio sul petto, cioè è persino troppo ovvio. No, Archie, sei adorabile quando mi sottovaluti. Vieni con me. Oh mio Dio. Vediamo ora Weatherby come se la cava. Il cerchio rosso non è più una sparota banda di fanatici, è un movimento col suo stile e eleganza.